Papa Francesco ha incontrato le autorità indonesiane e nel suo discorso ha evidenziato quanto sia necessario affrontare i divari puntando sulla costruzione dell'armonia sociale. Da domani fino al prossimo 8 settembre, festa parrocchiale per la comunità della Chiesa di Gesù Liberatore di Cannosa di Puglia. Saranno giorni di preghiera e di riflessione. L'anno scolastico sia pieno di speranza e l'auguro che l'Arcivescovo di Lecce, Monsignor Seccia, ha affidato con un messaggio rivolto a dirigenti, docenti, personale scolastico e studenti. La Puglia all'Italian Festival di Oboken negli Stati Uniti, dove i Molfettesi rinnovano la devozione per la patrona della città, la Madonna dei Martiri. Festival Castel dei Mondi al Palazzo Spagnoletti è stata allestita una mostra dal titolo Exodus di Michelle Mirabal. Il fenomeno delle migrazioni è il tema al centro del progetto. Bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale di Teledeon. Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti della Chiesa e le autorità civili indonesiane a Jakarta in occasione del suo 45esimo viaggio apostolico. Seguiamo insieme i due incontri della giornata. Vediamo. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri la pace e unisca le forti per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone, la Chiesa. La Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, i quali distorcendo la religione tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. Anche io vi rinnovo queste esortazioni e vi incoraggio a continuare la vostra missione, forti nella fede, aperti a tutti nella fraternità e vicini a ciascuno nella compassione. tre parole che vi lascio e voi pensate dopo. Fede, fraternità e compassione. Vi benedico, vi ringrazio per il tanto bene che fate ogni giorno in tutte queste isole belle. Prego per voi, prego, ma per favore vi chiedo di pregare per me. Ma state attenti a una cosa, pregate a favore e non contro. Dal 5 all'8 settembre prossimi la comunità parrocchiale di Gesù Liberatore a Canosa di Puglia vivrà la propria festa nella gioia del ritrovarsi. Il servizio è a cura di Alba Di Palo. Vediamo. Un momento di allegria e di preghiera per riannodare una comunità. Giornate che si trasformeranno in strade di riconciliazione dopo la pausa estiva che sfilaccia i legami. La parrocchia di Gesù Liberatore a Canosa di Puglia apre le proprie porte e si prepara a vivere le giornate di gioia che la celebrano. Sarà una festa parrocchiale improntata sul tema dell'educazione, da declinare a famiglie e giovani generazioni perché non venga mai dimenticato che Dio educa il suo popolo. Sarà anzitutto un momento di gioia e di fraternità perché la festa parrocchiale è sempre un momento in cui la comunità si ritrova per stare insieme, per festeggiare il proprio patrono e per sentirsi appunto un unico popolo guidato da Dio. In maniera particolare quest'anno poi il tema dell'educazione ci vedrà concentrati per sentirci un popolo educato e poi capace di educare. Soprattutto vogliamo prendere a cuore ancora una volta le giovani generazioni che hanno bisogno di essere guidate, di essere condotte a Cristo. In cartellone sono previsti momenti di preghiera come quello con Don Adriano Caricati, direttore dell'ufficio scuole ed educazione della diocesi di Andria e incontri per le famiglie, dalle più giovani alle più consolidate, poi il tribo che prepara la giornata di celebrazioni dell'8 settembre. L'obiettivo è ricongiungere custodendo nel cuore la speranza giubilare. Il ripartire con gioia guardando a Cristo e guardando anche ad un evento particolare che quest'anno ecco coinvolgerà tutta la Chiesa, che è il Giubileo, vorremmo davvero attingere a questa grazia particolare che il Santo Padre ci dona e che appunto ci vedrà coinvolti come comunità cristiana. L'Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, ha inviato un messaggio al mondo della scuola in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, sia un anno di speranza e questo l'augurio dell'Arcivescovo. Sentiamolo. Sarà un anno speciale anche per voi. A dicembre Papa Francesco aprirà il Giubileo per fare memoria dei 2025 anni dalla nascita di Gesù. Sia anche per voi tutti, educatori e alunni, un anno scolastico giubilare di gioia e speranza, quella speranza che si possano mettere proprio nella scuola le basi di una civiltà dell'amore, senza guerre, senza divisioni ed esclusioni. È un passaggio del messaggio che l'Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, ha scritto a chi lavora e opera nel mondo della scuola. La speranza è che i potenti della terra tornino a credere e operare per la pace universale, è il suo auspicio. Agli insegnanti chiede di avere veramente a cuore chi vi viene affidato dalle famiglie. Vista la mia esperienza personale come insegnante, prosegue, conosco bene il peso che grava su di voi. Attraverso la cultura, continua Seccia, siate esempio di amore alla vita, di rispetto della dignità umana, di rispetto dei propri simili, di tutela di quel creato che gli studenti avranno in eredità. L'Arcivescovo non dimentica i dirigenti scolastici, specie coloro che per la prima volta incontreranno il collegio dei docenti. Sono sicuro che insieme si potrà rendere l'ambiente scolastico un luogo lavorativo ed educativo all'insegna della serenità e della corresponsabilità e l'augurio. Agli studenti e alle studentesse l'Arcivescovo suggerisce di provare a stare lontani dai pericoli che il mondo vi propone come soluzione ai problemi esistenziali, le droghe, l'alcol e la spazzatura che trovate sulla rete, perché spiega, non aprono spirali di fiducia, ma possono davvero rovinarvi la vita con poche possibilità di riprenderla in mano. La Puglia, l'Italian Festival di Oboken negli Stati Uniti, i molfettesi rinnovano la devozione alla Madonna dei Martiri. Sentiamo. Il sogno americano è il legame forte con il bel paese. C'è tutto questo nell'Italian Festival di Oboken, nello stato del New Jersey, negli Stati Uniti, che sino a domenica rinnova la devozione dei molfettesi di oltreoceano per la Madonna dei Martiri. E' da 98 anni che si svolgono i festeggiamenti di questo rito religioso attraverso il quale, sulle rive del fiume Hudson, di fronte allo skyline di Manhattan, la comunità italo-americana riesce a catalizzare l'attenzione dei new yorkesi. Sono attesi circa 100.000 visitatori ai quali, tra eventi musicali e stand gastronomici, quest'anno per la prima volta l'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione rivolge un'attività di promozione della Puglia. In occasione dell'evento di Oboken in New Jersey ci sono il regista Alessandro Piva per la realizzazione di alcuni video e due funzionari di Puglia Promozione, poi uno stand della Regione Puglia insieme al quale viaggiano le luminarie e la cultura pugliese dell'accoglienza. Ancora incontri con gli operatori economici e video della Puglia turistica proiettati a Times Square. E voltiamo pagina. Col diretti Puglia chiede alla Regione di accelerare l'iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale dovuta alla prolungata mancanza di piogge. L'associazione di categoria stima un crollo delle produzioni pensate di oltre il 60%. Vediamo. Serve accelerare l'iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in Puglia a causa della siccità che ha fatto crollare le produzioni dal grano all'uva, dagli ortaggi alla frutta. E' quanto chiede alla Regione Puglia il Presidente di Col diretti regionale Alfonso Cavallo in attesa delle verifiche legate al crollo delle produzioni che si stima sia di oltre il 60%. Per la siccità e le temperature bene al di sopra della norma, nello scorso inverno ne hanno fatto le spese già le clementine che sono finite al macero, ricorda Col diretti Puglia. Non va meglio, sostiene l'associazione di categoria, per la produzione di grano che risulta dimezzata per effetto della prolungata siccità che ha inciso sul taglio delle rese. La crisi idrica ha determinato una diminuzione drastica di foraggio verde nei pascoli con l'aggravio dei costi per l'acquisto di mangimi, prosegue Col diretti Puglia ma anche gli apicoltori hanno dovuto dire addio oltre un vasetto di mele su due con le api stremate e senza cibo per le fioriture azzerate. A preoccupare, continua l'associazione, sono le previsioni della prossima campagna di raccolta delle olive dove si stima un crollo del 50% rispetto all'anno scorso con effetti gravi sulla produzione di olio extravergine d'oliva. Cambiamo argomento, a Bari i truffatori contattano i cittadini con falsi numeri delle forze dell'ordine a darne notizia e la Polizia di Stato. Nel prossimo servizio qualche consiglio su come evitare le frodi telefoniche. Sentiamo. Sempre alla ricerca di nuovi metodi per ingannare i cittadini e questa volta sono stati presi di mira i baresi. Una delle ultime tattiche utilizzate dai truffatori prevede la falsificazione dei numeri telefonici della Polizia di Stato approfittando della naturale fiducia che si ripone nelle forze dell'ordine. Le strategie adottate dai malintenzionati possono variare. Spesso l'utente viene contattato da un individuo che si spaccia per un membro delle forze dell'ordine come un poliziotto, un carabiniere o un finanziere. Questo falso operatore segnala un presunto problema legato a un conto corrente, a una bolletta del gas o ad altre questioni finanziarie invitando la vittima a presentarsi presso un ufficio di polizia in una data specifica. Poco dopo la vittima riceve una seconda chiamata da un altro falso agente che per risolvere immediatamente il problema suggerisce di effettuare un pagamento immediato fornendo loro delle credenziali. Gli agenti delle forze dell'ordine non chiederanno mai di trasferire denaro né di fornire le credenziali. In caso di dubbio è sempre consigliabile contattare direttamente il proprio istituto bancario per avere conferma. L'invito è quello di chiamare immediatamente la questura o il comando di riferimento per segnalare quanto accaduto. E ora parliamo del Festival Castel dei Mondi. Ad Andria, all'interno del Palazzo Spagnoletti, è stata allestita una mostra dal titolo Exodus realizzata dall'artista cubano Michel Mirabal. Il fenomeno delle migrazioni è il tema al centro del progetto. Sentiamo. Quadri, sculture, video e grandi installazioni che si relazionano alla vita ordinaria in un contesto dove il fenomeno delle migrazioni interessa ogni regione del mondo in crescita esponenziale. Exodus, ingegneria dell'arte, è la mostra realizzata dall'artista cubano Michel Mirabal il cui segno pittorico si contraddistingue grazie al coraggio del pensiero politico e umano che si traduce in un eccezionale e coinvolgente impatto emotivo. Si tratta di un progetto patrocinato dall'ambasciata di Cuba in Italia. Il progetto Exodus parte da lontano. L'autore è un autista cubano, si chiama Michel Mirabal, un esule, e ha lavorato in questa mostra barra installazione sul progetto, appunto, sul problema legato alla sua nazione, al rapporto con la sua nazione, cioè Cuba. E quindi all'interno di questa mostra si troveranno tutta una serie di quadri, installazioni, video, racconti legati a questo tema, appunto quello della emigrazione forzata. Al centro l'arte e la sua relazione con la vita sono temi che il Festival Castel dei Mondi di Andrea ha sposato pienamente in questa ventottesima edizione. Quest'anno il Festival si è spinto su una progettazione molto articolata, ma legata a dei temi etici, morali, politici molto forti. Non è un Festival consolatorio e nemmeno un Festival narcotizzante. Vogliamo mettere in chiaro che i Festival devono incidere all'interno della compagine sociale di ogni comunità e far riflettere sulle cose positive e soprattutto sulle cose negative. E continuiamo a parlare del Castel dei Mondi. Sempre ieri nell'ex macello comunale di Andrea, la rappresentazione teatrale Edipus, quattro stanze di grigie fiamme, lo spettacolo della Compagnia delle Bambole. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio a cura di Damiana Dorotea Sgaramella. Vediamo. Un'opera che permette di entrare nel senso del tragico. Edipus, quattro stanze di grigie fiamme, è la rappresentazione teatrale portata in scena dalla Compagnia delle Bambole sul solco del mito di Edipo, uno dei più significativi della nostra civiltà occidentale. Lo spettacolo si inserisce nel cartellone degli eventi previsti per la 28esima edizione del Festival Castel dei Mondi di Andrea. È un mito che si fonda su un grande, enorme tabù sul quale si fonda la nostra stessa civiltà occidentale, le stesse tematiche che vengono poi narrate all'interno di questo antichissimo racconto le ritroviamo poi anche espresse spesso oralmente dall'Africa all'America, in tutto il mondo. Chiaramente la letteratura, quindi noi come sai il testo di riferimento è quello di Seneca, l'Edipo di Seneca, è anche quello di svela, quindi c'è da un lato la forza, la potenza della letteratura che ancora mantiene questa sua funzione, cioè quella proprio di disvelare il tabù alla società. L'Edipus di Seneca, cuore pulsante di questo nuovo adattamento per il teatro, si presta ad una visione del corpo dell'arte teatrale in quanto teatro totale. Ma cosa significa quattro stanze di grigie fiamme? Queste stanze sono le stanze dove del Palazzo Reale, ho immaginato questo Palazzo Reale a Tebe dove Edipo e Giocasta hanno vissuto e hanno avuto anche dei figli, quindi hanno potuto proprio vivere questi ambienti. Ma ora, in questo punto della narrazione, quando tutto è bruciato, quando tutto sta bruciando, anche letteralmente per via della peste che invade appunto la città di Tebe, ecco che però da un altro punto di vista non c'è più neanche il fuoco delle fiamme, ma c'è il fumo, quindi c'è questo colore giallo-grigio che riempie queste stanze e in un certo senso rende anche più visibile l'inconsistenza dei problemi familiari. Il feedback più comune è quello sicuramente della forte umanità che viene fuori dall'aver contattato questo mito e il sentirsi parte di una comunità, cioè aver ritualizzato tutti insieme, sebbene in posizioni differenti, ma essere stati insieme con maggiore sincerità e profondità. A Palazzo delle Arti Beltrani, con lo spettacolo Sconcerto di Raffaele Tullo, assieme all'Orchestra Filarmonica Pugliese si chiude la sezione dei grandi eventi speciali della stagione artistica 2024. Vediamo. Non è che per caso c'è qualcuno tra il pubblico che vorrebbe dirigere questa orchestra? Io! Che bella questa cosa, guarda, non me l'aspettavo proprio stasera questa cosa che mi succede. A Palazzo delle Arti Beltrani, uno spettacolo che unisce grazia e ironia, grandi arie e cabaret con disinvolta improvvisazione teatrale. Il leader della Rimbam Band, Raffaele Tullo, in scena assieme all'Orchestra Filarmonica Pugliese con Sconcerto, nel quale un ambizioso solista mette a dura prova tutti gli orchestrali in un susseguirsi di colpi di scena e variopinti linguaggi artistici. Uno show innovativo e pirotecnico di cui Tullo è anche autore. Guarda, la comicità si fonda sul ritmo. Il ritmo, il timing è imprescindibile. Quindi quando si costruisce uno spettacolo bisogna pensare che il ritmo lo scandisce e se manca quello manca proprio la struttura comica. E poi quando lavori con la musica, se non c'è il ritmo, la metà della musica è il ritmo, il resto è armonia. Quindi avendo lavorato tantissimo e per tantissimi anni con la Rimbam Band mi sono abituato a pensare a spettacoli che possano essere animati da questi parametri che sono il ritmo, poi la sorpresa, la musica. E con l'Orchestra Filarmonica Pugliese è stata una bellissima sfida. Non mi aspettavo di trovare gente così reattiva. Poi sono giovani, hanno entusiasmo, hanno vitalità. Io sto sempre molto bene con questi ragazzi perché mi invadono di un'energia vitale e meravigliosa. Energia, talento, vitalità. Quindi sono estremamente felice di essere qui a Trani. La stagione continua, una stagione ricca di sorprese, ricca di eventi. Continua adesso nel mese di settembre con tanti nuovi appuntamenti tra cui, ricordiamo i prossimi, con Agatha Paradiso e Vinciabbracciante alla Fisarmonica dell'Amore Uguale e Trinacria, Donna, che è un altro spettacolo particolarissimo, un reading musicato, quindi con queste attrici che suonano e recitano, che importiamo dalla vicina Sicilia. È uno spettacolo che sa proprio di sud, che sa del sapore appunto del nostro, della nostra terra, dei nostri usi, dei nostri costumi e anche del nostro cibo. Qui fanno spettacolo tutte le sere e mettono pure le tanti arriere. Ed è tutto per questa prima edizione. Noi naturalmente vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia dei nostri programmi televisivi. Noi naturalmente vi ringraziamo per averci seguito